aspettando il nuovo anno dal mare alla montagna in tutti i centri storici si possono scorgere le piazze principali arricchite di bellissimi presepi 4.000 dislocati su tutto il territorio regionale abeti illuminati mercatini e tanti proposte per le feste e per capodanno se grado per le vacanze natalizie si è trasformata in isola di natale con iniziative intrattenimenti per grandi e piccoli per celebrare il 31 dicembre si industria a fare ancora di più invita tutti in piazza marine per la grande festa di fine anno con i travolgenti ostetrica gamberini in concerto e dj set a cura di sogite e atmo il giorno dopo alle 15 30 sempre in piazza marine propone la visita guidata gratuita ai presepi della città con i zampognari immancabile come ogni anno il concerto del primo gennaio al palazzo regionale dei congressi alle 17 la concordia chamber orchestra diretta dal maestro ferdinando mussutto che per questo concerto di capodanno proporrà libertango musiche di tango sinfonico brani affascinanti dal sapore esotico gorizia stupirà con musica e fuochi d'artificio della durata di 25 minuti a capodanno in piazza vittoria lo spettacolo pirotecnico sarà il momento culminante di una serata che sarà l'insegna della musica prima dell'ultima notte dell'anno ci sarà il concerto rock history show che inaugurerà il grande palco di piazza vittoria venerdì 29 poi sabato 30 ci sarà il concerto sinfonico al teatro comunale verdi dell'orchestra pavlo dava kazakistan alle ore 20 e 45 e altre notte apriranno anche il 2018 con il nuovo concerto d'inizio anno a palazzo de grazia non mancheranno poi chioschi enogastronomici un concerto con brani sacri e melodie popolari dedicate al periodo natalizio sarà presentato a monfalcone il 29 dicembre alle ore 20 e 30 nella chiesa del san redentore di via romana vedrà partecipi il soprano diana mian il mezzo soprano lessi anadine il direttore pianista maurizio baldina assieme alla corale primo vere di ronchi dei legionari e il coro voci del piave di salgareda nella cittadina friulana al teatro nuovo giovanni d'audine domenica 31 dicembre alle ore 18 si terrà il concerto della strauss festival orchestra vien diretta da peter gut soprano ila faima domenica 31 a lignano sabbia d'oro in piazza san giovanni bosco dalle 15 in poi ci sarà il gran capodanno dei bambini feste spettacoli giochi e animazione a cura dell'associazione lignano in fiore onlus alle 18 e 30 a sabbia d'oro si svolgerà la santa messa con il tedeum dalle 22 in piazza fontana festa di capodanno con intrattenimento a cura dello showman maurizio zamboni con spettacolo da cabaret vita da bar di giovanni caccioppo comico di zelic e animazione musica in attesa dell'anno nuovo a luna laser show a pordenone al teatro verdi alle ore 16 concerto di fine anno con l'orchestra sinfonica della radio nazionale ucraina di kiev a cura del centro iniziative culturali alle 22 in piazza 20 settembre capodanno in piazza con il concerto del gruppo imagination feat lee john e il dj set lino look presenterà igor pezzi a mezzanotte i fuochi d'artificio a piancavallo sabato 30 dicembre alle ore 17 ci sarà il tradizionale capodanno dei bambini e tombola dei libri con orto teatro presso l'info point domenica 31 alle ore 18 presso la pista salomon prenderà avvio la bellissima fiaccolata con la discesa dei maestri di sci per festeggiare il capodanno primo gennaio 2018 in occasione della 51esima giornata mondiale della pace a trieste si farà la marcia cittadina per la pace e fraternità tra i popoli portando una candela il ritrovo sarà piazza unità alle ore 15 e 30 la partenza alle 16 la marcia cittadina si concluderà alle 17 45 con le musiche per la pace alle 18 messa per la pace celebrata dall'arcivescovo per festeggiare la prima serata frizzante dell'anno sempre a trieste si brinderà in musica al teatro orazio bobbio si terrà alle ore 18 la 41esima edizione del concerto di capodanno con la civica orchestra di fiati verdi con una carrellata di valzer polche e arie tratte da operette serata animata dal tenore andrea binetti e dalla soprano maria giovanna michelini insomma anche quest'anno il nuovo anno si festeggerà alla grande con la speranza che non ci sia il brutto tempo le previsioni del meteo dicono infatti che domenica 31 l'anno di san silvestro trascorrerà con un tempo generalmente asciutto su quasi tutte le regioni ma piuttosto nuvoloso al nord per il primo giorno del 2018 è atteso l'arrivo di una veloce perturbazione che porterà pioggia al nord e poi al centro le temperature non subiranno sostanziali variazioni mantenendosi sopra la media di qualche grado grazie a tutti Grazie.